guarda non trovo più il tuo numero di telefono quindi te lo dico qui a quanto pare sembrerebbe che allora questo villaggio sia rimasto mi hanno chiamato ora al volo e tipo tra un'ora parto e torno la derezor quindi magari vi dico anche maggiori informazioni però sembrerebbe che allora sto villaggio c'è davvero e c'è da combattere niente volevo informarti prima che magari scrivi robe sbagliate bene ciao